In una Montecatini alle prese ormai da anni con una cronica crisi del termalismo, il Covid-19 rischia di essere la pietra tombale per decine di ristoranti, alberghi e bar. Chi può però resiste e prova ad immaginarsi un futuro che necessariamente sarà molto diverso da quello che abbiamo vissuto fino a pochi mesi fa. È il caso di Claudio e Sergio Chimenti, una vita nella ristorazione e nel settore turistico, titolari del ristorante Corsaro Verde a Montecatini Terme. Oggi i due fratelli sono dentro la loro attività chiusa al pubblico che cercano di immaginarsi come potrà avvenire la riapertura, tra tavoli distanziati, di vieti di stare uno di fronte all'altro e ingressi ben separati dalle uscite. Siamo tramortiti da due mesi di pugni che abbiamo preso in faccia e non ci siamo ripresi e penso che sarà difficile riprendersi anche successivamente dopo l'apertura quello che regna è l'incertezza sul nostro futuro. Ora sarà veramente dura riprendersi anche perché abbiamo accumulato due mesi di fermo, hanno accumulato situazioni debitorie difficilmente sostenibili perché fino adesso è tutto un rimandare anche se le scadenze ci sono state rimandate ma un conto è rimandarle, un conto è annullarle. Poi ci ritroveremo se anche si dovesse riaprire a metà maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, quando questi conti arriveranno insomma. E poi arriveranno e noi saremo aperti in che modo, che fatturati riusciremo a fare, questo è l'incertezza perché dovrebbero uscire queste linee guida a cui dovremmo attenerci. Però chiaramente ogni azienda per esempio ha le sue problematiche di tavoli, di sedi, mi sembra di aver capito che la linea guida principale sia l'allontanamento sociale, insomma. Dobbiamo stare separati e già questo è un problema che nei locali pubblici era la caratteristica principale, andare insieme anche gruppi per socializzare e per stare insieme. Il rischio è che pur con i ristoranti riaperti in tanti non se la sentano di entrare dentro un luogo pubblico insieme ad altre decine di persone. Non è escluso che almeno in un primo momento le consegne da asporto e a domicilio diventino l'attività principale di molti ristoranti. Questa situazione porta con sé anche delle, non dico opportunità, ma comunque dei modi diversi di lavorare che magari non abbiamo esplorato fino ad oggi e che in effetti potrebbero essere di aiuto come appunto i cibi a domicilio che noi stiamo facendo già da un paio di settimane che hanno un certo successo e da asporto che la regione toscana da pochissimo ha consentito l'asporto per cui ci ha dato anche questa piccola possibilità di incremento. Diciamo che una riapertura non sarà immediatamente la risoluzione di tutto, la nostra incertezza è proprio quella. Da una parte sono convinto che la gente dopo due mesi ha voglia di uscire, per carità, però uscire a certe condizioni sarà un freno comunque. Anche solo per i posti, noi abbiamo circa 130 posti a sedere che per come è combinato il locale, dopo potranno essere forse la metà se va bene. Inevitabilmente sarà difficile poter fare dei fatturati che ti sostengano, che ti consentano di stare sul mercato. E poi c'è la questione economica, gli incassi si sono azzerati in questo periodo, le spese fisse no. Ci hanno tra virgolette costretto a chiudere e ci dovrebbe essere sicuramente un indennizzo per questa chiusura obbligatoria, per lo meno per sostenere le spese fisse, luce, gas, affitto, mutui, sono costi che comunque dilazionarli è importante. Però poi come dicevo all'inizio arrivano i 600 euro che sono arrivati, sono una goccia nel mare, non sono sufficienti. Per ora non vedo la stessa cassa integrazione per i dipendenti, noi abbiamo nove dipendenti che abbiamo messo in cassa integrazione e anche loro mi dicono che ancora ad oggi non hanno ricevuto niente. E anche loro sono nove famiglie che hanno bisogno di mangiare, di andare a fare la spesa e non hanno più reddito. Per cui è un disastro totale da tutti i punti di vista. Grazie.